Pronto? Pronto? Ma uomo come si chiama il sistema delle piscine che se volemo fa' cartachena? Solo senza quel cazzo di cloro? Filtrazione dell'acqua. Ah, filtrazione dell'acqua, capito? Così se le famo, filtramo tutto. Come va? E' come da una crema, uomo. Forza Di spedio time, vi sei rellea di novio Di spedio time, a la vie rider Di spedio time, a rellea la curdo Di spedio time, a nenne parlere di spedio time Di spedio time, vi sei rellea di novio Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501